Un lungo silenzio rotto solo dal pianto di una comunità rimasta senza parole. Le saracinesche abbassate dei negozi nel rispetto del lutto cittadino proclamato dal sindaco Vittorio D'Alessio. Grappoli di palloncini bianchi sfilano prima di partire in volo. Tutto a Mercogliano si è riversata nel fazzoletto d'asfalto dove è situata la chiesa dell'Annunziata. All'ingresso della parrocchia, visto l'importanza dell'evento, c'è un utrito schieramento di forze dell'ordine, mentre la Polizia Municipale è impegnata a vigilare il traffico, disciplinato per l'occasione, attraverso uno straordinario piano di viabilità. Lo sguardo di tutti è rivolto verso il viale, da dove dovrebbe arrivare il corteo funebre partito da via nazionale. La tesa silente, accarezzata da un sole primaverile, la dignitosa cornice per incassonare uno stessione dove è stato impresso un patto infinito d'amore. Non sarà mai un addio, brilla amico mio. Ciao Bembo. Dietro ci sono gli amici di Roberto Bembo, il ventenne massacrato la mattina di Capodanno a Torrette di Mercogliano. Osservando i loro volti, gli occhi gonfi di lacrime, molti di loro nemmeno maggiorenni, coetane di Robertino, avvertì appieno l'entità della tragedia, di quanto sia duro accettare la morte di un giovane di 20 anni, strappato una vita ancora tutta da vivere, con ferocia inaudita. Con il tascorrere dei minuti, tutta l'area dove sorge il luogo sacro, viene sommesso di umanità. Migliaia di persone a corsa per l'ultimo saluto a Roberto. Il silenzio viene rotto solo dai motori della colonna di auto che accompagnano il ferretro. L'emozione ora sale forte, dalla chiesa giungono le note del piano che introducono il rito funebre. Ora il silenzio si fa da parte, dominato da un caloroso applauso che accoglie in chiesa la salma. Si tengono stretti i genitori di Roberto, Gerry e Cinzia, più volte presi per mano da John e Anita, gli altri due figli che nonostante la loro teneretà, sembrano loro fare da scudo di protezione a mamma e papà. In una chiesa gremita, con le fasce tricolori, ci sono i sindaci di Mercogliano, Avellino, Monteforte e Irpino, una rappresentanza di ospedaletto d'Alpinolo, i gonfaloni dei comuni listati a lutto. Le casse installate all'esterno amplificano le fasi della messa celebrata dal vescovo di Avellino Arturo Aiello. A suo fianco l'abate di Monteveggine, Riccardo Guariglia, donvi italiano della Sala e altri parroci della diocesi di Avellino. La barra viene coperta da rosse bianche. Il vescovo invita i tanti giovani presenti a non rendere vana la morte di Roberto, lo fa più riprese. Non svendete la vostra gioventù al primo lucignolo che arriva, aggiunge Monsignor Aiello, che invita i ragazzi a non seguire i modelli di comorra. Non è un idolo, dice, e a non cedere al fascino della violenza. C'è un'aria molto tesa, Mercogliano, ribelisce il vescovo. C'è chi teme una controoffensiva. Se potesse parlare, Roberto vi direbbe, gettate le armi. Interviene anche il sindaco D'Alessio, che dopo aver espresso la sua avvicinanza alla famiglia Bembo, chiede agli inquirenti di fare giustizia. Vendetta no, ma giustizia in tempi rapidi, appena esemplari per i responsabili della morte di Roberto. Parole che strappano l'applauso ai presenti. Poi dopo il ricordo commosso di un'amica, il ferretro viene portato via, salutato dal volo di centinaia di palloncini bianchi, scortato da un fiume di giovani che invade di sentimenti la città, le falde del partenio. In testa lo stessione, che saluta Bembo, torna di nuovo il silenzio, il grande silenzio, come lo definisce il vescovo Aiello, più chiaro e preciso di tante parole.